San Valentino è la festa degli innamorati, ma questa ricorrenza si festeggia ancora? Ma ancora le posso dire che è sentita giustamente per chi ha la coppia e in coppia, si va al ristorante, si ci fa i regalini a vicenda. San Valentino è un giorno con tutti gli altri, sempre così è stato, anche quando ero sposato, nel senso, deve essere tutti i giorni una festa, poi purtroppo succedono problemi in famiglia che uno cerca di risolvere, però San Valentino è un business più che altro, senza voler togliere niente a chi è. Senta, ma nel 2023 questo amore esiste, non esiste questa passione? Sì, secondo me sempre esiste, con varie sfaccettature, ma esiste, per il momento a me sono relax. Io non credo a queste feste, mi sembrano veramente ridicole. Una donna deve essere amata e rispettata non solo il 14 febbraio. Cosa vuole dire a sua moglie che si chiama? Chetti. Cosa vuole dire? Che è una moglie fantastica, la amo. La dedica la faccio anche a mia mamma, che è il mio amore pure, e il mio figlio, Salvo. Non per me non c'è più amore, non c'è più amore. L'amore era una volta, ai miei tempi. Quando per una donna si doveva stare attente per ricercarla, per vederla, oggi ce l'hanno tutti quanti a portata di mano. È una cosa bellissima. Perché? Perché l'amore è importante nella vita e non si può vivere senza l'amore. A me mi piace, non è importante anche il regalo, però anche una cena fuori. Io penso che ci faccio un bel regalo alla compagna. E cosa gli regala? È un profumo, qualcosa del genere. Sì, la diversità è sì, ormai non mi piace più. Perché? Ma è finito San Valentino o l'amore? San Valentino, non c'è più, non c'è più, non è andata. Le piccole cose si fa senza tanto festeggiare. Ma lei ci crede a questo amore, a questa passione? Ci siamo due. Qual è il segreto di questo amore? No, è che ci sopportiamo. Ogni tanto ci ritiriamo e poi... Va bene, così, così... Capita. Per ravvivare un po'. Ma si festeggia questo San Valentino? Ma no, a casa, poi noi evitiamo... Alla nostra età è meglio stare a casa. Comunque una passeggiatina ce la faremo, sicuro. Anzi siamo senza mascherina, di solito porto la mascherina. E vabbè, ma l'amore ve lo date un bacio? A poi... Buon San Valentino! Altrettanto, grazie, grazie. San Valentino, la festa degli innamorati. Ma lei lo festeggia? Che fa? Ma è ogni giorno San Valentino. Quindi per gli innamorati non bisogna aspettare il 14 di febbraio. Per le persone che si rispettano con tutti, San Valentino ogni giorno. Cosa vuole dire alla sua lei un messaggio? Ma di vivere questa vita in tranquillità, in serenità, come abbiamo fatto fino ad oggi. E con tanto amore, no? Sì, questo già è scontato.